L'avvento della bestia quindi è imminente. L'ex magistrato, il dottore Carlo Palermo, attualmente avvocato, tenta disperatamente di capire quali siano state le vere cause che hanno spinto la mafia a tentare il suo assassino negli anni Ottanta e chi siano stati i veri mandanti occulti della strage. Solo nel 2016 ha individuato la pista giusta che lo ha portato ad una scoperta terribile che ha pubblicato poi in una serie di libri che sono questi tre finora. La bestia ai figli dell'Aurora è Il Patto. Dice la copertina del libro Il Patto, il progetto apocalittico per il nuovo mondo, un anno per aprire, tre per chiudere. Il principe discreto del Rosacroce, dei gesuiti e dei massoni. Quindi cosa ha scoperto l'ex magistrato Carlo Palermo? Ha scoperto e spiegato i significati di molte simbologie che sono pervasive in tutto il mondo ma che rimangono indecifrabili ai non iniziati. Simbologie usate da un'altissima massoneria che proietta nei secoli questo piano spaventoso di governo del mondo. Queste simbologie sono spesso esibite in pubblico e ovviamente la maggioranza non le capisce e rappresentano vere e proprie notifiche occulte che indicano anche l'inizio di progetti presentati nei media in un modo accettabile. L'ultimo di questi progetti in ordine di tempo è il Grande Reset, Grande Ripristino, Grande Azzeramento, se vogliamo tradurre la parola Reset. Queste simbologie nel cui segreto significato è indicato il vero intento di questi progetti per il raggiungimento appunto del suo scopo di dominio mondiale, nuovo ordine mondiale che non è altro che il regno dell'Anticristo. Questo piano prevede il depopolamento artificiale, criminale ovviamente, del pianeta per ristabilire l'equilibrio con la natura e preservare il loro dominio. Questa elite pratica il culto di Lucifero e Satana e si rende sempre più manifesto questo culto ed è il perno stesso del loro credo e della loro fede. Quindi questi figli dell'aurora vogliono arrivare al dominio del mondo e a conclamare alla luce del sole il loro culto luciferino. Questa simbologia è pervasiva, ce la ritroviamo dappertutto, ma siccome siamo non iniziati non la comprendiamo, non la capiamo. E questa elite di potere usa le scienze occulte, usa la conoscenza antica, spirituale, la cabbala e altri ritualismi, molti dei quali oggi fanno capo al noto satanista perverso Aleister Crowley. Siccome siamo nella fase finale, e curiosamente questa masoneria è una masoneria apocalittica, che strano, siamo nel tempo dell'Apocalisse e c'è una masoneria apocalittica che persegue parallelamente lo stesso scopo del Padre Eterno. Cioè l'anticristo vuol fare il suo regno, luciferico satanico, e Cristo vuol fare il suo regno, che è all'opposizione, un regno di pace e d'amore. Quindi c'è una selezione in atto, ma i processi viaggiano parallelamente. E se c'è arrivato un personaggio che tutto è, tranne che un esperto di spiritualità, come appunto il dottore Carlo Palermo, ci deve dare il senso profondo della concretezza e della verità di questi fatti, che da parte mia sono conosciuti grazie allo studio biblico e dei messaggi extraterrestri, e anche scientifico, perché come sapete amici ho cercato sempre le prove di quanto era scritto in quei messaggi o in quelle profezie. Ma Carlo Palermo di fatto ci arriva attraverso un'indagine prettamente giudiziaria, partendo dal tentativo di assassino nei suoi confronti e dalla ricerca dei mandanti occulti. Quindi queste élite si trovano anch'esse nella parte finale del processo di dominio mondiale. Addirittura Carlo Palermo ha scoperto che la fase della pandemia è un anno per aprire, tre per chiudere. Quindi secondo i loro piani si potrebbe arrivare a conclamare il loro progetto di governo mondiale entro il 2024. Quindi non abbiamo molto tempo. Recentemente in Italia, anzi ancora in atto, è stata a Roma indetta questa mostra. È iniziata il 15 di ottobre del 2021 e terminerà il 9 gennaio del 2022. Mostra sull'inferno, sulle opere d'arte che hanno come soggetto l'inferno. Mostra che si tiene alle scuderie del Quininale, luogo già sede prestigiosa di altre importanti mostre. Questa mostra è stata inaugurata il 13 ottobre 2021 direttamente dal Presidente della Repubblica Italiana ed è stata aperta al pubblico il venerdì 15 ottobre 2021. Curiosamente era la data di istituzione del certificato verde per i lavoratori. Una coincidenza perlomeno strana, ma a parer mio non certo casuale. La mostra, è stato spiegato ufficialmente, si propone di raccontare la presenza nella storia del pensiero e dell'arte del concetto di inferno e dannazione. Dal Medioevo ai nostri giorni, per rendere omaggio all'opera del sommo poeta Dante Alighieri, la Divina Commedia, ha 700 anni dalla sua morte datata 14 settembre 1321. Quindi le date della mostra non coincidono esattamente con lo scoccare dei 700 anni dalla morte di Dante, che è morto appunto il 14 settembre, mentre invece la mostra è stata aperta il 13 ottobre, inaugurata, scusate, e poi aperta il 15 ottobre. Ma questo discorso è un discorso che ha una sua logica, cioè la scelta di queste date, perché una delle cose che piace tantissimo a questa massoneria, e so anche all'Anticristo, è la cabbala, cioè l'arte della magia dei numeri. L'evento ha destato grandissima attenzione mediatica e anche molto turbamento, soprattutto nella rete si sono letti tantissimi commenti in tal senso, che cercavano di capire come mai una mostra di questo genere, e molti hanno attribuito a questo evento dei significati sinistri e satanici, soprattutto per la presenza, tra le tante opere, della cosiddetta Porta dell'Inferno di Auguste Rodin, noto artista francese. Chi visita la mostra inizia il suo percorso proprio con quest'opera, quindi idealmente passa per la Porta dell'Inferno. Ma perché aprire questa mostra di venerdì? Perché far partire dal venerdì il certificato verde, considerando che poi il sabato e la domenica non si lavora il certificato verde per poter lavorare? C'è qualcosa di stonato, sarebbe stato più logico far partire il certificato verde il lunedì, l'inizio della settimana? No, invece il venerdì. Perché il venerdì? Intanto il Quirinale si trova a Roma, la mostra si tiene a Roma, la sede della cristianità, come ben sappiamo, è Roma, della cristianità cattolica. Ecco, gli antichi romani al tempo dell'Impero eseguivano le condanne a morte di venerdì. Quindi questo ci dà una chiara indicazione che quello che è stato fatto simbologicamente con questa mostra è un rito. Nella tradizione cattolica il venerdì è il giorno di astinenza e digiuno in ricordo della morte di Gesù Cristo. Chi è il nemico dell'Anticristo? Cristo. Quindi aprire la mostra di venerdì. Istituire il pass verde di venerdì è un atto sacrificale. Un riferimento simbolico che ai neopagani del mondialismo, del nuovo ordine mondiale, ritengo io, non sia assolutamente sfuggito, quindi non è a caso. Quindi, secondo la mia analisi, a tutti gli effetti, l'evento simboleggia un rito sacrificale, un'offerta al principe degli inferi per la buona riuscita dei loro progetti. Come dice Carlo Palermo, un anno per aprire, tre per chiudere. E gli eventi successivi che stanno accadendo in questi giorni ne sono, a parer mio, una chiara conferma. Il discorso sulla porta dell'inferno è molto lungo, amici. In parte l'ho già trattato in un webinar che ancora potrete trovare. Basta che cliccate il link in descrizione al video e vi potrete accedere. In questo webinar sviluppo già in maniera più ampia alcuni argomenti che sto toccando in questa presentazione attuale. e che sarà appunto la porta dell'inferno, il blackout dei social, oggi non ne parlerò, e la guerra del Pentagono agli UFO. Comunque, siccome l'informazione è veramente tantissima, sulla porta dell'inferno conto tra non molto tempo, comunque ne comunicherò la data, di fare un seminario, possibilmente, spero di riuscirci, di una intera giornata. Perché l'informazione che ho recolto è veramente tantissima. E nemmeno in questo webinar, che dura circa tre ore, l'ho potuta presentare tutta. Quindi dedicherò un'intera giornata al discorso che ruota intorno alla porta dell'inferno. Perché veramente c'è tantissima informazione, tantissimi dati che ho potuto scoprire. È stata una ricerca abbastanza difficoltosa per reperire alcuni dati, ma ritengo che sia di enorme importanza conoscerla in tutti i suoi aspetti.